segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te storico firma del corriere della sera in libreria con ferite ancora aperte guerre aggressioni congiure erito da rizzoli ben trovato paolo saluto io voi grazie alessio da dove cominciamo con maria grazia gerina in redazione abbiamo cercato di capire come in catar stiano cercando di comunicare o meglio se lo stiano facendo quello che noi chiamiamo catar gate diciamo che ci siamo posti questo tipo di domanda in italia e in generale nei paesi che stanno vivendo lo scandalo del catar come uno scandalo che li riguarda ma in italia in particolar modo il catar gate occupa tutte le prime pagine di tutti i giornali e aspettiamo notizie ogni giorno aggiungiamo un pezzetto in questo grande puzzle in cui ci sono di mezzo spie non si capisce bene sacchi mazzette di soldi e allora ci siamo detti se c'è un corrotto ci deve essere un corruttore e questo corruttore nel paese dell'eventuale corruttore come stanno vivendo tutto ciò e non ne parlano possiamo sintetizzare così abbiamo due cartelli che con maria grazia abbiamo preparato il primo al jazeera che è il network televisivo più importante uno dei più importanti al mondo tra l'altro a varie sedi in diversi paesi possiamo vedere il cartello abbiamo messo a confronto la lingua questo è il simbolo di al jazeera la lingua araba e poi quella italiana eccolo qui quindi con la traduzione questa è l'apertura si parla della guerra in russia la russia prende di mira le infrastrutture bombarda luans che donetsk però in tutto il sito non c'è traccia di questa inchiesta allora noi ci siamo chiesti forse saranno altri media magari quelli minori a ricoprirlo e secondo te comandata non c'è niente l'altro cartello l'avete visto un collage di siti e non non compare eccolo qui paolo aiutami tutto regolare diciamo si è normale ma guarda che fra un po non se ne parlerà neanche in europa perché c'è un aria al parlamento europeo che si stanno mettendo anche se loro negano appena fatto un comunicato negando si stanno mettendo d'accordo democristiani e socialisti per insomma aspettare che passi la buriana e lasciar cadere il tutto la cosa in sé allude a un a qualcosa di molto più grande perché siccome la vicepresidente non è che faceva passare queste emozioni da sole loro analizzeranno e anche le cifre è molto probabile che fossero provvigioni per fare delle mazzette per dare 3 mila euro a tante persone a ognuno piuttosto che 650 mila euro perché 650 mila euro non c'era una posta in gioco che valesse 650 mila euro per cui paghi a pansieri o a quel signore lì che che hanno fatto per essere pagati troppo comodo quindi tu dici quando si parla di tanti altri parlamentari che potrebbero essere coinvolti e perché è possibile che quei soldi transitassero per arrivare poi ad altre persone magari a più persone a tante persone vedo vedevo a un certo punto un'espressione di paolo che ho detto che bravo e riesce a stare esattamente eccolo eccolo c'era un'immagine frizzata paolo io mi meravigliavo di come tu riuscissi a stare fermo fermissimo in realtà era un'immagine frizzata eccoci vai dicevo questa è la cosa più probabile i servizi segreti di cinque paesi hanno fatto questa indagine ma poi la vera indagine questo solo inizio sarà sui soldi dei russi cioè l'ipotesi per cui si sono perché sai queste cose le potevano scoprire anche in passato adesso si sono allertati perché stavano vedendo se siccome erano accadute delle stranezze tra cui tre di questi parlamentari del PD per carità e per libera convinzione però avevano si erano sottratti a un voto a un voto che equiparava la russia al terrorismo proprio cozzolino e altri due così insomma sono andati a vedere sono andati a vedere se per caso quel voto sicuramente loro l'hanno fatto perché sono convinti che non si possa dire terrorismo a proposito della russia nessuno mette in dubbio la loro buona fede però stanno indagando su finanziamenti ben più ampi e il parlamento come fece il parlamento italiano nel 1992 all'inizio di tangentopoli farà muro quel muro si ruppe all'inizio di tangentopoli perché i comunisti furono indagati un po' meno leggermente meno per cui cominciarono a tifare i giochi ma qua siccome si parte dagli eredi di quelli lì indagati allora secondo me finirà nulla cioè tu dici questa volta il muro tiene insomma proverà a tenere a meno che a meno che questi magistrati che agiscono sulla base delle carte che gli danno i servizi siano ostinati però ma non lo so insomma è troppo presto per scommettere se dovessi scommettere io penso che a natale faranno in modo che non se ne parli più vedo che i principali rappresentanti dei partiti della sinistra italiana di questo non parlano ecco no a questo proposito letta stamattina c'era un